Ciao Food Springer, sono Jill, sono tornata e voglio parlarti, voglio sfattare un mito oggi. Noi sportivi mangiamo, ok? Mangiamo pure tanto, ci alleniamo per mangiare. Vorrei sentire da tutti i miei amici sportivi là fuori qual è il tuo cibo proibito, tuo cheat day, tuo giorno di sgaro, che cosa mangi durante il giorno di sgaro, perché aiutiamo a tutti quelli che non sono sportivi a diventarlo. Perché diventarlo? Perché molte persone vivono o vedono che la vita sportiva è di sacrificio, no? Si allena, si allena, si allena, non si mangia mai, non si diverte mai, non si fa mai un aperitivo. E nulla potrebbe essere più sbagliato, perché la verità è che più mi alleno, più posso mangiare. Anzi, più mi alleno, più mi serve di mangiare. Un'altra cosa importante è più mi alleno, più per avere una bella muscolatura ho bisogno di proteine. Allora, ecco perché mi piace Foodspring, ho portato un po' di prodotti, ok? Instant Oats, che sono le fiocche di avena, ma una grana molto piccola, quasi una farina, proprio una farina di avena che può essere utilizzata come addensante, la possiamo utilizzare a sostituire la farina 00. Poi questa, la Shape Shake è meravigliosa, è un concentrato di proteine, integratori che ci aiutano a riattivare il metabolismo, pieno di proteine, pieno anche, la cosa bella di Foodspring è anche spesso e volentieri pieno di fibre, ok? Fibre che sono importanti come prebiotici, fibre che ci aiutano a sentire più sazi. E poi la cosa più bella della nostra Foodspring è un modo intelligente per peccare, ok? Per esempio, la Protein Pizza è pazzesca, ok? È veramente buona, mangio la pizza senza senza di colpa, perché la verità è che quando tu diventi sportivo non è che ti passa la voglia di mangiare ogni tanto un cibo peccaninoso, un cibo che ti appaga. Invece con Foodspring abbiamo la possibilità di soddisfarci, ok? Protein Pancakes, ok? Ricca di nuove di proteine, di tanto fibre, perché loro come ti danno la massa, quella che ti dà quel gusto di mangiare qualcosa che sembra farinoso, ma invece è fibra. La fibra noi non la assorbiamo, la passiamo, nutre i nostri microbioti, ci aiuta con il metabolismo. Poi hanno anche tantissime cose, hanno delle tisane per disintossicarci e poi la Protein Cream, come potete notare è finito. Beh, è finito. Allora è finito e poi c'è il Coco Cream, è come la Protein Cream, ma è bianco, è pazzesco. Non ce l'ho più perché l'ho finito. Però quello che vi sto provando di dire è non è vero che i risportivi non mangiano, non è vero che viviamo una vita di stenti, non è vero che non ci divertiamo, anzi, ci divertiamo come matti, ma quando mangio con Foodspring la cosa bella è che posso avere il meglio di entrambi i mondi perché Foodspring è godereci al massimo. Abbiamo gelato e pancake e Protein Cream, Smoothie Balls che io adoro. Ci aiuta ad avere delle barette che sono proteiche, però sembrano quelle tipo la Mars o le Twix o le Snickers che sono super buoni. E il gioco è di cominciare, è di provare. E ricordate sempre che su Foodspring c'è anche il mio sconto, ok? Sconto GIL, YT, subito un bellissimo sconto di 15%, di entrare, di provare. Andate sul mio YouTube per fare tanti 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 allenamenti, ok? Perché allenamento è gratuito. Buttati nella mischia, cominci ad allenarti. E ricordati, essere sportivo non vuol dire stenti, non vuol dire non mangiare più, non vuol dire non mangiare affatto, anzi, devi a volte mangiare di più quando sei un sportivo perché il tuo corpo sta richiedendo più calorie, perché li bruci di più, ok? Vi mando un abbraccio a tutti quanti, vi auguro una giornata spettacolare. Ricordate, con Foodspring mangiare il goderecio è più facile e con meno senso di colpa, perché loro intelligentemente arricchiscono i loro prodotti di fibre, di proteine, di proteine anche sani perché sono spesso volentieri o vegani o grass fed, che vuol dire che vengono con un'altissima quantità proprio di proprietà organoletiche come le omega 3, ok? E poi l'altra cosa, ci permettono di avere pochi zuccheri, ok? Le nostre protein cream, 42% less carboidrati di un protein cream normale e poi tutta la gamma della lista dei prodotti di Foodspring vedrai quanti diversi, diciamo, scamotaggi hanno per darti tanto gusto con poche calorie, ok? Passate una giornata spettacolare, ci vediamo presto e vi voglio bene. Baci dalla Jill!